Stanno succedendo di fatti eccezionali, intanto la combinazione che anche la Pirelli prestigia i suoi 150 anni e Pirelli è un orgoglio italiano, lo dico da ex pilota e quindi diciamo da uno che ha conosciuto bene questo mondo anche dal sedile di una macchina da rally. Il fatto che la Pirelli sia il fornitore unico dalla Formula 1 che ovviamente è la punta di diamante, ma il campionato del mondo rally e tanti altri campionati è per noi veramente un grande orgoglio e mi fa piacere che ci sia qui. Oggi il dottor Tonchetti Provera rappresenta questa bellissima realtà italiana. Io non posso che essere grato, veramente grato, al presidente Mattarelli che ha deciso di essere qui con noi domenica. Questo è un segnale che io colgo come un momento veramente di grande appoggio da parte della Presidenza della Repubblica e soprattutto da lustro ancora di più a questo grandissimo appuntamento. Un grazie.